Amati figli e fedeli, voi rimanete in città affinché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Ecco la città santa, la nuova Gerusalemme, sulla quale scende la potenza dell'Onnipotente, che manda il suo santo spirito per rivestire dall'alto i suoi consacrati, coloro che gli appartengono, coloro con cui il Padre ha voluto rinnovare la nuova alleanza, rifondarla affinché il mondo veda e creda. Ecco che queste parole si compiono, grazie alle promesse che la fanciulla di Dio, Maria Giuseppina Norcia, ha fatto a noi i suoi figli, colei che ci è madre nella fede, la quale a sua volta, avendo ricevuto questo annuncio dal Signore, da Gesù, è rimasta salda nella fede, ha creduto e ha annunciato affinché tutti coloro che lo Spirito Santo nel tempo e per tempo ha inviato, invia e invierà nella città santa, possano a loro volta credere, essere confermati nella fede ogni giorno di fronte al tabornacolo, ricevendo lo Spirito Santo, ricevendo la potenza di Dio, Padre Onnipotente, dall'alto, per poter nuovamente portare l'annuncio della salvezza a tutte le genti. Ecco l'annuncio che si compie in questa terra d'amore. Noi, figli di questa madre, figli della madre chiesa, oggi vogliamo festeggiare con lei che ci è mamma. Ecco il nostro grazie che oggi con tutto il cuore in questa festa si alza per poter raggiungere il cielo affinché nell'unione tra il suo cuore e il nostro cuore il mondo possa udire l'unico battito che dona la vita, quell'unico battito che dona la salvezza. Il nostro grazie, Madre Santa, per il tuo vivo amore, per la tua viva vicinanza, per il tuo vivo essere con noi in questa unione tra cielo e terra, in questa distanza che si è ancor più accorciata per dar la possibilità a tutti coloro che vivono la nuova Gerusalemme di poter già ora vivere il cielo su questa terra, in questo angolo di paradiso in terra che il Padre, nel suo infinito amore, nella sua infinita misericordia, nella sua infinita grazia, ci ha donato. Ecco la festa, viva, continua e palpitante. Ecco la messa, viva, continua e palpitante. Mai il mondo potrà comprendere la sua e la nostra messa. Beati coloro che sono invitati al banchetto, beati coloro che partecipano alla messa quotidiana, unendosi al tabernacolo per potersi unire in un tripudio d'amore con Gesù Cristo. Pane vivo disceso dal cielo, che nella terra d'amore si dona ai suoi figli per far vivere loro l'eterna resurrezione, l'eterna vita. Un augurio particolare oggi a tutte le mamme che sull'esempio di Maria Madre Santa vogliono vivere la santità e farla vivere ai figli, ai frutti dell'amore del Padre. Voi figli, amate le vostre mamme, non giudicatele, aiutatele, affinché sempre di più il legame possa portare tutti a vivere lo stesso rapporto che univa Gesù a Maria, Maria a Gesù, in un intreccio d'amore vivo e totale. Mai abbandonare la propria mamma. Gesù ha affidato la sua mamma all'apostolo dell'amore, così come ha affidato l'apostolo dell'amore e in lui tutta l'umanità alla Madre. Questo è l'esempio che Gesù ci dona per far vivere a tutti il cielo, anche su questa terra. Date amore, vivete l'unico ed eterno amore che unisce cielo e terra affinché oggi, in questa festa viva, ogni figlio possa onorare la propria mamma, ogni mamma possa educare il figlio, così come Maria ha fatto con Gesù, dando sempre la priorità allo spirito e non alla carne, al volere del padre e non al volere dell'uomo, alla missione spirituale e non ad altro che spirituale non è, affinché in questo ci si possa sempre più comprendere e unire nell'unico ed eterno amore che è Cristo Signore, che è Maria, Madre, Regina e Corredentrice. Dio Padre Onnipotente benedica noi tutti nel suo santo nome di Padre e di Figlio e di Spirito Santo. e di Figlio